vi lascio il video di come realizzo le mie sopracciglia qui nella i d'informazione applico il primer viso della freedom pro mattifi ora vado a stendere il correttore sulle mie occhiaie R609 di Yves Rocher subito dopo vado a prendere la Revolution Ultra Base Correct Palette e vado a stendere una serie di diversi tipi di correttore vado ad utilizzare per la precisione il verde il viola e il colore pesca vi lascio comunque nella i d'informazione il video in cui vi spiego come utilizzare questo tipo di correttori vado ad applicare il fondotinta questo è il fondotinta della Maybelline New York Instant List nella colorazione 030 sabbia natural lo applico con una spugnetta leggermente inumidita per poi aiutarmi negli ultimi ritocchi con questo pennello vado ad applicare il correttore illuminante Skin Fresh Concealer della V7 nella colorazione chiaramente light molto pesca e lo stendo con la stessa spugnetta con la quale ho applicato il fondotinta. Faccio baking con la cipria in polvere libera della Yves Rocher, questa è nella colorazione pure light e se non avete visto il video di come faccio baking vi lascio anche quello nella I di informazione con questa palette della Freedom vado a creare il mio contouring in crema delineando appunto i punti in cui io voglio creare un punto di ombra. Vado a togliere con un pennello apposito l'eccesso appunto del mio baking ormai mi ha opacizzata e subito dopo vado a sfumare appunto il contouring in crema che avevo creato precedentemente con la stessa spugnetta che ho utilizzato per il fondotinta. Dopo aver sfumato il prodotto in crema lo vado a fissare con un prodotto in polvere uso la 02 Sunny questa terra bronzer e fisso appunto i miei punti di ombra. Do una botta di cipria con la Freedom Pressed Powder Shade 101 Translucent. momento blush Revolution Ultra Blush Palette Hot Spice e vado a fare un mix. riprendo la Revolution Ultra Base Corret Palette dove c'è questo bellissimo illuminante in crema lo applico appunto per illuminare. Sopra il naso la punta del naso sopra le gote arco di cupido di cupido fisso il mio highlighter in crema con Vivid di Revolution appunto un illuminante in polvere. fisso il tutto con lo spray fissante della Revolution Pro Fix ed ecco una perfect base foundation like photoshopped. spero vi piaccia se così fosse lasciate un like visu mon coeur. fisso il tutto con il nostro corretto di cupido 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 di